Aprile è un ottimo mese ancora per seminare le patate. Sono buonissime le patate coltivate da noi. Ci sono tantissime varietà di patate in commercio. Fatevi consigliare della vostra agricola di fiducia qual è la varietà migliore che viene meglio nella vostra zona. Io sto nel centro Italia, sul litorale, e spesso in commercio trovo la varietà spunta e la varietà desirè. La spunta è una varietà a pasta gialla con la buccia bianca. Desirè è una varietà a pasta gialla con la buccia rossa.